Salve a tutti ragazzi, sono Zwillix e oggi sono qui con un nuovo video in cui andremo a vedere che fine hanno fatto i protagonisti più importanti della saga di GTA E tra questi andremo anche a vedere quali sono morti ufficialmente Prima di cominciare ragazzi volevo chiedervi se potevate mettere mi piace al video Mi aiutate veramente parecchio e ultimamente ho notato un calo di likes Quindi vi chiederei per favore di lasciarmi un mi piace perché veramente mi aiutate parecchio Inoltre se volete seguitemi su Instagram e seguite la mia pagina Facebook, link nella descrizione Anche se si può capire benissimo con la logica, dato che parleremo di questo argomento Volevo avvisarvi che ci saranno spoiler di alcuni episodi di GTA usciti fino ad oggi E ci sarà anche uno spoiler sul finale di GTA V, quindi uomo avvisato, mezzo salvato Il primo protagonista e personaggio che andremo a vedere sarà Victor Vance Che proviene da GTA Vice City e Vice City Stories Infatti è stato il protagonista di Vice City Stories e un personaggio secondario su Vice City Per raccontarvi un po' di chi si tratta, Victor Vic Vance è un marine dominicano di 28 anni O meglio era Questo perché un giorno il suo superiore, il sergente Jerry Martinez Gli chiese di nascondere per lui della droga nel suo dormitorio e di procurargli una prostituta Victor, nonostante era tormentato dai suoi dubbi morali Aveva comunque capito che era obbligato a seguire gli ordini del suo superiore Quando però la droga è stata scoperta da un ufficiale Martinez scarica tutta la colpa su Victor Che è espulso con infamia dai Marines con l'accusa di detenzione di stupefacenti E favoreggiamento della prostituzione Quindi Victor decide di iniziare un impero del crimine a Vice City E da Vice City Stories una delle più potenti icone della città Dico Vice City Stories perché nonostante questo gioco sia uscito dopo Vice City Vice City è comunque ambientato nell'86 Mentre Vice City Stories è ambientato nell'84 Infatti tra il 1984 e il 1986 Victor comincia a diventare un uomo potente nel giro delle droghe e della criminalità All'inizio di Vice City possiamo notare Tommy Versetti e due suoi compagni Dopodiché abbiamo Lance Vance con Victor Vance in una riunione per spaccio di droga Tommy Versetti e la sua crew portano i soldi per acquistare la droga da Lance e Victor Lance rimane nell'elicottero mentre Victor no Quindi sapete come va a finire In boscata, l'accordo salta e i compagni di Tommy come anche Victor muoiono tutti Tranne ovviamente Tommy Il primo Victor e il secondo Victor ovvero il Victor di Vice City Stories e il Victor di Vice City Sono abbastanza differenti ma ci sono alcune ragioni per questo La voce e l'attore di Victor in Vice City rifiutò la proposta di fare la voce e i movimenti del protagonista Victor di Vice City Stories Inoltre Vice City Stories è uscito circa 4 anni dopo e chiaramente 4 anni possono fare la differenza tecnologicamente parlando E soprattutto se poi cambiamo attore dello stesso personaggio E' per questo che sono abbastanza differenti tra di loro La Rockstar ha confermato che Victor Vance di Vice City Stories è comunque lo stesso Victor di Vice City che muore all'inizio del gioco Passiamo al secondo protagonista del gioco nonché il mio protagonista preferito in assoluto dopo Nico Bellic e Tony Cipriani E sto parlando di Johnny Klebitz e mi farò un po' male parlare di lui in questo video Johnny Klebitz era il protagonista di una delle due espansioni di GTA 4 ovvero The Lost Endemned Che possiede secondo me una delle storie più belle in assoluto della saga Nonostante questo gioco sia comunque un'espansione The Lost Endemned è un episodio in cui i Lost MC avevano una grande importanza che purtroppo è stata sterminata su GTA 5 Trasformando questa gang da una gang inarrestabile a una gang penosa Per farvi un esempio immaginatevi l'Eister di quest'anno e dell'anno scorso Però in questo caso invertendo gli anni Praticamente il ragionamento che sto cercando di farvi capire è proprio questo Ovvero che prima i Lost MC erano fortissimi e invece dopodiché su GTA 5 sono stati praticamente umiliati In questo episodio la gang cresce piano piano ma da quando Billy fu stato beccato e arrestato La gang cascò veramente molto in basso Jimmy, Terry e Clay chiedono a Johnny di ritornare al comando dei Lost diventandone il nuovo presidente A seguito dell'arresto di Bill Ma Brian allo stesso tempo lo ritiene invece un traditore E creando una sua fazione di sostenitori di Billy Abbandona la clubhouse proclamando una guerra interna tra i Lost MC Dopodiché finisce che Johnny vince la guerra E a questo punto ci sarà una lunga storia in cui Johnny si ritrova spesso nei panni di un eroe E allo stesso tempo si viene anche a scoprire che Billy, l'ex capo dei Lost in carcere Vuole testimoniare contro I Lost MC stranamente finiscono la fine di Lost and Damned Però a quanto pare Johnny ha trovato il modo di ricreare la gang e diffonderla per Los Santos Oppure comunque portarsi tutta la gang da Liberty City a Los Santos E a quanto pare dalle poche frasi che hanno detto su GTA V Sembra che Johnny e la sua fidanzata Ashley Siano dipendenti dalle droghe che Trevor sta producendo Allo stesso tempo sembra che prima che morisse Johnny I Lost MC stavano collaborando con l'impero della Trevor Phillips Che allo stesso tempo gli passava delle droghe da cui sono diventati dipendenti O almeno la maggior parte della gang Ashley fa le corna a Johnny con Trevor Johnny lo scopre e si ritrova faccia a faccia con Trevor Che aveva appena sentito la famosa frase di Michael in televisione Dopo dieci anni che non sentiva questa frase Ovvero uno si dimentica mille cose al giorno Perché non facciamo che ti dimentichi anche questa? Trevor anche se non si vede dalla scena È scioccato dal fatto che esista una possibilità Che il suo amico Michael sia a giro per Los Santos E sta perciò per spaccare la faccia a Johnny fino ad ucciderlo E secondo me se proprio dovevano farlo uccidere Dovevano farlo uccidere in maniera migliore Perché un protagonista cazzuto e forte come Johnny Non l'ho mai visto così moscio, bonaccione e tossico in GTA V Io non ho mai voluto credere che un personaggio così potente e pericoloso come Johnny Sia stato rovinato dalla Rockstar per dare più importanza a Trevor Oltretutto in maniera molto imbarazzante Come se Johnny fosse un fottutissimo normale civile Che ammazziamo ogni giorno nei nostri amati server di GTA Online Quando invece prima dell'uscita di GTA V Aveva fatto i peggio miracoli Aveva ammazzato una grandissima quantità di poliziotti e di criminali Nonché anche l'ex capo dei Lost MC Billy E diciamo che era una specie di Walker Texas Ranger a giro per Liberty City Ecco Infatti Trevor, proprio perché ha ammazzato Johnny Non è mai stato e mai sarà tra i miei protagonisti preferiti E speravo che quella scena fosse solamente un sogno Oltretutto Johnny odiava le droghe Quindi non capisco perché farlo diventare automaticamente un drogato su GTA V E allo stesso tempo non capisco perché rovinare la gang più cazzuta di Liberty City Se siete arrivati in questo punto del video ma non avete finito GTA V Vi ripeto nuovamente che spoilererò il finale di GTA V Quindi nuovamente Uomo avvisato, mezzo salvato Proprio perché Trevor aveva ammazzato Johnny Il mio finale preferito, con tutto il rispetto per Trevor Che ammiro come protagonista È il finale A E tra i protagonisti che muoiono nella saga Infatti questi possono essere Michael o Trevor E logicamente non per forza se scegliamo il finale C Franklin è l'unico personaggio che non può morire Perché lui ha la scelta di uccidere uno dei due per salvare quell'altro Oppure salvare entrambi E questa tipologia non l'abbiamo mai vista su GTA Parlando invece degli altri personaggi Purtroppo non sappiamo che fine abbiano esattamente fatto Anche se comunque ci sono delle piccole informazioni riguardo ad esempio Nico Bellic Che viene menzionato in molti easter eggs di GTA V E stranamente uno di Fallout 4 Se volete dare un'occhiata a questi due video Link nella descrizione Ma non sappiamo se comunque Nico Bellic sia vivo o meno Quanto pare sì Perché comunque tiene una pagina di Life Invader attiva Questa che state vedendo nel video E non avrebbe avuto senso creargli una pagina di Life Invader attiva Se fosse morto Riguardo Tommy Versetti Nulla, non sappiamo proprio niente Su GTA V non c'è nemmeno mezzo riferimento Per Luis Lopez e Gay Tony invece abbiamo qualcosina su una rivista E sembra che siano ancora vivi In quanto a quanto pare hanno fatto un'intervista Per la rivista che state vedendo nel video Tony Cipriani come Tommy Versetti è completamente sparito E Carl Johnson stessa identica cosa Con la differenza che però ci sono comunque dei vari easter eggs su di lui Che possiamo trovare nel gioco E vi lascerò il link del video sempre nella descrizione Infine riguardo Cloud di GTA 3 Che ha pure fatto un'apparenza su GTA San Andreas Sembra che questo sia morto Però almeno secondo alcuni riferimenti che possiamo trovare su GTA 4 Perché su GTA 5 riguardo questo protagonista Non c'è praticamente niente Possiamo trovare questa scritta sui muri che si riferisce a lui Ma oltre a questo c'è anche la prova che Playboy X Sempre un personaggio di GTA 4 Indossi i suoi stessi vestiti Anche se non sappiamo se li ha ottenuti da lui o meno Quindi se dobbiamo fare una lista dei protagonisti principali morti nella saga di GTA Possiamo inserire Victor Vance Tony Cipriani Johnny Klebitz Michael E infine Trevor Questi ultimi due Perché comunque hanno la possibilità di morire appunto su GTA 5 E quindi appunto attraverso delle scelte che deve prendere il giocatore Niente ragazzi vi ricordo di lasciare un piace Mi aiutate veramente parecchio Se volete vedere i vari easter eggs che vi ho citato precedentemente Vi lascerò tutti i link nella descrizione di questo video E noi ci sentiamo al prossimo video E noi ci sentiamo al prossimo video Grazie a tutti. Grazie a tutti.